Allora piccola postilla in menzione speciale alla fine di James Bond in cui ci conferma che James Bond è Superman perché il cattivo gli spara tre colpi, lo becca stavolta, gli spara tre colpi ma niente, James Bond è un po' indebolito, perde sangue ma continua ad alzarsi, a fare cose, a correre, a saltare, a sparare insomma, quindi anche questo molto molto divertente.